Ho avuto modo di sottolineare che questa riorganizzazione non avrebbe dovuto essere altro che un appendice al programma operativo che come sappiamo tutti non è stato predisposto subito dopo l'emergenza coronavirus dalla regione Abruzzo. Ma al di là di questo arriva un programma che in realtà già è stato eseguito, in genere le programmazioni anticipano la fase operativa. Ma anche soprassedendo su questo, la premura mia alla luce del dibattito che c'è stato negli ultimi giorni era quella di capire dove la regione Abruzzo vorrà andare e nello specifico avendo nella relazione di riorganizzazione della rete Covid citato che la parte che riguarda la rete ospedaliera che è in corso di riorganizzazione come scrivono loro riguarda la struttura ABESPOC e cioè si tratta di lavorare su DEA di primo livello ed infatti lo ribadiscono anche nella strutturazione Covid ho richiesto espressamente all'assessore Veri di lasciare a verbale un'idea di questo tenore. In buona sostanza ho voluto sintetizzare questa cosa per il semplice motivo che a livello nazionale ci sono due criticità. Una criticità è libera dalla ingerenza sulla rete ospedaliera perché riguarda le liste d'attesa e ho chiesto se loro avevano intenzione di affrontare i problemi della regione Abruzzo attraverso il ricorso alle strutture private piuttosto che l'incremento dell'intramenia. Ma per quanto riguarda la funzionalizzazione dell'ospedale Pescara Chiti che potrebbe alla luce dei dibatti di fatti negli ultimi giorni portare un differente trattamento rispetto all'era interna dell'Aquila capoluogo Teramo c'è un'ulteriore riflessione da fare e questo tenuto a puntualizzare all'assessore Veri e cioè che a livello nazionale con i fondi MES piuttosto che con il recovery plan si lavorerà per volontà del ministro Speranza alla riapertura di quegli ospedali che erano stati chiusi durante il periodo di riorganizzazione e di carenza dei fondi. Se è vero questo come è vero perché lo riportava il Sole 24 ore qualche giorno fa c'è un'esigenza di aprire, di fare chiarezza e di dire effettivamente se c'è la volontà di dare una rete ospedaliera più strutturata che sia una rete di prossimità e che dovrebbe essere non solo una sterilizzazione della funzionalizzazione di secondo livello ma dovrebbe essere a supporto poi con tutta quell'attività implementativa della medicina di territorio che farebbe superare al di là dell'emergenza su cui noi dobbiamo sempre prestare attenzione e anche le disfunzioni del trattamento sanitario sui territori e soprattutto sui territori più deboli.